passeggiata per la letteratura giapponese, letture ambientate in Giappone Ciao a tutti lettori e lettrici, ben ritrovati o ben arrivati sul mio canale io sono Martina e oggi vi racconto altri 5 titoli di letteratura giapponese già ne avevo realizzati due di questi video in passato dedicati appunto a una rassegna di letture di questa parte del mondo che io amo particolarmente quindi eccoci qua con Banua possiamo iniziare 5 libri di oggi sono libri di cui vi ho già parlato nei vari wrap up su questo canale però volevo che restasse un video dedicato in modo tale che nel tempo si potesse comunque conservare dato che sono tutti libri che hanno in comune questa ambientazione cominciamo con il primo che è Un bosco di pecore e acciaio di Miyashita Natsu, edito Mondadori è tradotto da Laura Testaverde, sappiamo quanto sono importanti le traduzioni e quanto lo sono soprattutto quando si tratta di lingue così diverse rispetto alla nostra in particolar modo il giapponese che è una lingua che ha una struttura sintattica completamente diversa rispetto all'italiano Un bosco di pecore e acciaio è un romanzo di formazione il protagonista si chiama Tamura è un ragazzo che non ha particolari qualità possiamo dirlo alla Musil, proprio è un uomo senza qualità perché non ha delle particolari ambizioni non sogna di diventare qualcuno non ha un progetto da realizzare nella propria vita ecco, un giorno mentre si trova nella sua scuola assiste ad una situazione particolare per gli altri potrebbe essere una situazione assolutamente normale ma per lui diventa significativa perché nella sua palestra si presenta un uomo che fa l'accordatore di pianoforti e deve accordare il pianoforte della scuola lui lo osserva mentre sta svolgendo questa funzione e si affascina si lascia ammaliare dalla bellezza di questo lavoro che richiede così tanta concentrazione così tanta precisione e comincia a pensare che perché no potrebbe fare la scuola per accordatori e quindi noi lettori lo seguiamo durante questi anni di formazione all'interno di una scuola che ha delle regole molto molto ferre dei percorsi da seguire che sono molto precisi e anche rigorosi sembrerebbe un lavoro stupidissimo e invece è molto impegnativo quindi si scopre anche tanto in questo romanzo per quanto riguarda una professione della quale io personalmente sapevo poco o niente è anche molto bello vedere come lui cominci piano piano ad appassionarsi a questa professione e in particolar modo alle persone che ci sono intorno perché fare l'accordatore di pianoforti significa non soltanto conoscere bene lo strumento ma anche entrare in relazione con i musicisti chi saranno le persone che dovranno suonare questi pianoforti lui man mano si reca nelle case dei clienti inizialmente come assistente poi pian piano come professionista appunto per accordare questi pianoforti e incontra i musicisti le musiciste più grandi, più giovani ci sono anche delle ragazzine molto giovani quindi si tratta anche di un romanzo che tratta un tema molto delicato qual è l'educazione sentimentale io però trovo che il tema della questione del talento sia proprio centrale all'interno di questo romanzo come tante volte si dica però devi avere un obiettivo da raggiungere devi avere una passione dentro di te che ti anima è anche vero che alle volte non è così facile riconoscerla e non è detto che tutti i ragazzi ce l'abbiano però può anche capitare che ci si imbatta come il caso di Itamura quasi casualmente in una professione si cominci a svolgere quell'attività e si scopra che in un lavoro dedicato minuzioso, appassionato si può trovare il proprio centro il proprio posto nel mondo e quindi è anche affascinante poter vedere la cosa da questo punto di vista e non soltanto devo raggiungere necessariamente l'obiettivo che mi sono prefissato ecco lungo la mia strada posso anche incontrare delle altre opzioni di realizzazione professionale che magari saranno anche più convincenti rispetto a quello che gli altri avevano in servo per me quindi è un libro che a me è piaciuto veramente tanto e che secondo me può piacere molto anche ad un pubblico appunto piuttosto giovane un lettore di 16, 17, 18 anni secondo me può apprezzare tantissimo questo tipo di romanzo andiamo ad un altro giapponese però di stampo decisamente diverso e si tratta di Onna Zaka di Fumiko Enchi questo libro è edito Safari Editore che è una casa editrice indipendente italiana che mi piace tantissimo perché ha questa particolarità di fare i libri storti voi forse non lo vedete bene però il libro non è tagliato in linea retta la parte sotto è obliqua però quando lo si mette in libreria sta in piedi da solo ed è una particolarità che li contraddistingue la traduzione di questo libro è di Lidia Origlia Onna Zaka è un romanzo molto particolare anche per la testimonianza che ci offre dal punto di vista storico la protagonista è una donna una donna sposata con un signore che ha un ruolo politico sociale di una certa rilevanza quindi fanno parte della classe sociale più elevata questa donna siamo nel periodo Meiji questa donna contrae un matrimonio chiaramente combinato e svolge la funzione di moglie nella società del tempo la funzione di moglie aveva delle caratteristiche molto diverse da come la intendiamo noi oggi in occidente per cui lei era quasi una figura ufficiale di facciata e doveva occuparsi della cura della casa la realtà domestica a volte anche i conti di casa e non solo doveva provvedere anche alle esigenze fisiche del marito ma non in senso coniugale così come lo intendiamo noi in un senso che è veramente aberrante per un occidentale contemporaneo cioè lei doveva andare a cercare le concubine del marito stiamo parlando di una situazione in cui all'interno della stessa casa vivevano marito moglie è una o più concubine solo che lei per la funzione che ha può vantarsi ecco di poter essere lei la donna che sceglie le concubine del marito quasi come se questa funzione diventasse un onore ma è veramente una situazione difficile da comprendere da condividere ma è importante entrarci dentro cioè capire come una società potesse funzionare in una maniera così diversa rispetto a quella che intendiamo noi oggi e lei è un personaggio straordinario tutte le figure femminili di questo romanzo sono a loro modo straordinarie perché ci mostrano un essere donna che è davvero insolito ed è però testimonianza di un'epoca perché sono delle situazioni che succedevano e lei è completamente assoggettata alla figura del marito pensate che addirittura il suo nome lei la protagonista della storia si chiama Tomo e il suo nome è compreso all'interno del nome del marito perché è come se lei fosse una parte del marito è un appendice del marito sì è abberrante come situazione però è anche vero appunto che è una testimonianza di un'epoca storica ed entrarci dentro mostra davvero dei lati che sono sorprendenti e mamma mia fanno venire un po' i brividi ritorniamo al presente ma non meno inquietante di quello che vi ho appena detto anche se in questo caso parliamo di disturbo mentale il libro in questione è Nipponia Nippon di Abe Katsushige edito e o edizione in Italia e tradotto da Gianluca Coci questo è un romanzo abbastanza recente un romanzo di qualche anno fa il cui protagonista è un ragazzo appunto con un disturbo mentale un ragazzo che che cosa fa da giovanissimo mentre andava a scuola si fissa con una compagna di classe al punto da introdursi in casa sua leggere i suoi diari quando lei non c'è viene chiaramente accusato di essere uno stalker e viene allontanato dalla città i genitori pensano di allontanarlo appunto da questo paese per togliergli dalla testa questa ragazza Sakura e lo mandano in una grande città lo mandano a Tokyo e qui lo mandano in pratica a lavorare in una pasticceria che appartiene ad un amico di famiglia se non che lui in questa pasticceria non ci lavora quasi per niente si rinchiude in casa scopre internet e comincia a passare nottate giornate intere navigando su internet cominciando a coltivare una nuova ossessione quindi non fa altro che traslare l'ossessione per questa ragazza ad un altro tema qual è il tema quello di alcuni uccelli si tratta di una specie particolare di biscrestato che viene cresciuto allevato e custodito all'interno di una riserva naturale lui si convince che la condizione di vita di questi uccelli sia deplorevole in questa maniera e che lui sia stato chiamato insignito di una mansione speciale per cui dovrà liberare questi uccelli ma cosa significa liberarli? non tirarli fuori dalla riserva e farli volare liberi no lui li vuole uccidere perché pensa che se verranno liberati prima o poi potrebbero essere ricatturati e quindi potranno essere di nuovo messi in cattività quindi il suo compito è quello di uccidere questi uccelli perché attraverso la morte li potrà liberare e noi lettori assistiamo dal suo punto di vista tutta la preparazione di questo piano ordito appunto per andare a restituire secondo la sua concezione disturbata malata la libertà a questi uccelli è un libro molto particolare è un libro che non posso consigliare a tutti ma non posso non mettere in questa rassegna perché è una disamina sociale importante perché di questioni legate alla sociopatia ce ne sono tante ce ne sono sempre di più è stato detto a proposito di questo libro che parla di un Ikiko Mori non è così perché questo ragazzo non vive relegato dentro una stanza e basta esce e soprattutto esce per compiere delle azioni che sono criminali quindi siamo dentro la mente di una persona che è disturbata e che poi converte sul piano sociale questi suoi disturbi mentali in degli atti che sono appunto criminosi quindi libro bello tosto bello duro interessantissimo disturbante al punto giusto ci vuole un po' di equilibrio per riuscire a digerire una storia di questo genere però è veramente interessante questo ve lo devo dire libro numero 4 è invece un romanzo decisamente più suggestivo e surreale e si tratta del quaderno canguro di Abe Kobo edito atmosfere libri questo libro è tradotto ve lo dico subito perché sempre come dicevamo all'inizio importante da Gianluca Koci che è lo stesso che ha tradotto Nipponia Nippon quindi due traduzioni dello stesso traduttore allora il quaderno canguro rispetto agli altri romanzi come vi dicevo è decisamente diverso per il piglio perché si tratta di un romanzo che ha una fortissima componente di carattere surreale il protagonista è un uomo di cui non sappiamo il nome la mattina si ritrova con le gambe ricoperte i germogli di daikon cioè germogli di ravanello giapponese chiaramente è preoccupatissimo va subito in una clinica dermatologica dove viene sottoposto d'urgenza ad un intervento questo intervento però non è un intervento razionale normale perché a partire da questa sala operatoria a bordo di un lettino automatizzato comincerà un viaggio nel sottosuolo arriverà a visitare un centro commerciale che ha molto dell'onirico insieme alla sua infermiera che non si capisce come è sempre insieme a lui conoscerà un gruppo di spiriti bambini di demoni bambini che cantano in coro in un fiume sotterraneo e incontrerà una serie di altri personaggi che sono dei veicoli di tanti altri significati questo libro può essere interpretato in tantissimi modi si tratta sicuramente di un libro che ha molto a che fare con il mondo del sogno del significato recondito e soprattutto del sogno nel senso che gli dava Jung quindi parliamo di inconscio collettivo di archetipi ma si parla anche molto di dimensione spirituale perché ci sono tante componenti che fanno parte del folklore giapponese questi demoni bambini queste figure demoni anche che fanno un po' da ponte tra il mondo così come noi lo conosciamo e il mondo sovranaturale però è un libro che si può interpretare anche da altri punti di vista per esempio una un aspetto molto interessante di questo romanzo è una riflessione sulla perdita progressiva dell'autonomia quest'uomo che si trasforma in qualcos'altro che diventa piano piano non più capace di badare a se stesso che sta per trasformarsi in un vegetale è un uomo che dovrà abituarsi ad una nuova versione di sé ad una nuova forma di sé probabilmente meno autonoma meno autogestita come succede tante volte alle persone che sono affette da delle malattie debilitanti e questo noi occidentali lo comprendiamo molto bene è quindi un libro che ci porta a riflettere sulla dimensione del cambiamento della metamorfosi della trasformazione e che apre tantissime porte a mondi diversi di possibili letture non è un libro facilissimo da leggere ma è sicuramente un libro estremamente suggestivo che io consiglio a chi ha voglia di leggere qualcosa che lo porti veramente in altre lidi che lo porti a compiere un viaggio che apra degli squarci di immaginazione e di interpretazione che possono poi essere letti in tantissimi modi l'ultimo libro di oggi invece ritorna di nuovo sulla questione della società e dei problemi sociali che investono tanti paesi del mondo ma sicuramente il Giappone in particolare e vi sto parlando di un bel mallopozzo di quasi 900 pagine di Natsuo Kirino Grotesque edito in Italia da Neri Pozza io ho questa edizione che è bit cioè la versione economica di Neri Pozza il libro è tradotto ragazzi si da Gianluca Cocci ne abbiamo tre su cinque quindi pure questo è tradotto da lui che evidentemente lavora la grande siamo contenti per te Gianluca Grotesque di Natsuo Kirino è un romanzo strepitoso non vi fate scoraggiare dalla mole non vi fate scoraggiare dal volume perché vi può sembrare impossibile a portare a termine invece vi assicuro che si legge in maniera molto scorrevole anche perché è talmente interessante che le pagine se ne andranno via veramente come l'acqua una dopo l'altra questo libro racconta un problema fondamentale nella società giapponese che è la questione legata al lavoro e soprattutto al ruolo qual è la storia di fondo all'inizio di tutta la narrazione veniamo a sapere da una voce narrante che è una ragazza che due donne sono state uccise brutalmente due donne che lei conosceva molto bene una perché è sua sorella e l'altra perché era una sua compagna di scuola queste due donne sono state uccise brutalmente barbaramente ma cosa avevano in comune fra loro erano due prostitute la cosa che poi allontana questo libro dal noir classico è che ci porta di più sulla questione della denuncia sociale della disamina sociale e il fatto che queste due donne erano sì delle prostitute ma in realtà avevano alle spalle una formazione scolastica e poi professionale estremamente sviluppata ad altissimi livelli cioè erano delle donne che avevano frequentato delle scuole di elite delle scuole performative al massimo che avevano come scopo quello di creare delle super donne ed effettivamente come vedrete leggendo questo libro alcune di queste donne erano davvero delle super donne perché poi si apre un velo su tutta una questione che non riguarda solo questi due protagonisti ma ci sono anche degli altri personaggi donne che sono state inquadrate nell'ottica di diventare quello per cui era stato designato il loro cammino la competitività la competizione il desiderio di segarsi le gambe di affossarsi l'una con l'altra perché the winner is just one cioè c'è solo una vincitrice e le altre devono essere annientate questo senso di mancanza di empatia di cooperazione e di incattivimento della persona perché bisogna annientare gli altri per poter riuscire a scalare la vette ad essere gli unici a mettere sulla bandiera è quasi una componente ormai viscerale della cultura professionale sociale del Giappone l'aspetto fisico l'aspetto sociale quello che una persona deve mostrare di se stessa quanto cozza con ciò che veramente quella persona vorrebbe essere come se gli istinti naturali spontanei di realizzazione fossero stati tutti annichiliti annientati totalmente per lasciare spazio solamente a quello che il sistema richiede è una denuncia feroce e quindi è interessantissimo ed è molto bello il modo in cui la Chirino ha raccontato questa storia perché lei parla scrivendo con una lingua che è molto moderna molto fluida ma al tempo stesso è anche molto avvolgente di ampio respiro sembra quasi di leggere un romanzo di Dickens e poi cambia anche punto di vista noi vediamo vari narratori principalmente la sorella della protagonista di cui scopriamo un lato della storia ma poi ci sono anche degli altri spedienti narrativi per cui vediamo la stessa storia raccontata anche da punti di vista diversi compreso quello del presunto assassino di queste due donne perché anche lui viene poi individuato ma vi ripeto non è una questione di giallo lo scopo del lettore di questo libro non è sapere chi ha compiuto questi omicidi anche perché si scopre credo dopo le prime dieci pagine non è questo il punto quanto più capire quale meccanismo ha fatto sì che queste donne così avviate così promettenti così pronte per avere esattamente la vita che hanno sempre desiderato abbiano deciso volontariamente invece di corrodere il proprio corpo il proprio aspetto fisico quasi per fare della propria autodistruzione una modalità di attacco del sistema bene i cinque libri di oggi sono terminati spero di avervi un po' incuriosita sono cinque libri che pur per ragioni diverse a me sono piaciuti tantissimo fatemi sapere se li avete letti se avete altri consigli giappolibrosi da dare scrivete qui sotto nei commenti andate a vedere se siete interessati gli altri video sull'argomento li trovate nelle playlist dedicate qui sul canale si chiamano letture giapponesi io vi ringrazio per essere stati qui con me noi ci vediamo presto con un prossimo video ciao 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 ciao